comunque è bella è questo piatto no rifanno in altro che ora si è rovinato è quello che per quello per questo in più questo si lascia lì intanto facciamo questa ma sono scelti tutti siamo sicuri tutti quanti io quello l'ho preso in più da sotto io mi fido di pollone su certi aspetti i su altri un po meno con il maiale laccato al sale di prosciutto ed estratto di terrano la bregata rossa ha finito il servizio ma qualcosa non torna aspetta ragazzi 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 scusate manca un piatto manca un piatto ragazzi manca un piatto ragazzi manca un piatto veloce veloce manca un piatto ragazzi ve l'ho detto dio avevamo contatti venti piatti io ho visto polone con questo piatto in mano una volta che erano usciti tutti il topolone dove hai preso quel piatto guarda che erano venti contatti e l'ho preso un'altra parte ma non è ma ti sembra modo questo ti sembra le mani non mi devi toccare le mani vieni qua dai che scoppiano dai che scoppiano grazie mille grazie a te dai ce l'abbiamo fatto dai sei tu il capo squadra mi riconti te i piatti li devo un tavolone gli ho tagliati io so che gli ho tagliati venti ragazzi c'è modo non stiamo operando a cuore aperto mancava un piatto e l'abbiamo fatto sono un c***o nero per la fine però è uscito tutto come volevo piatti saporiti delicati belli e penso abbiamo fatto un ottimo lavoro grazie a tutti